Salve a tutti, in questo video vedremo come tagliare le foto a forma di zucca Magari potrebbe esservi utile per Halloween se volete avere delle foto a forma di zucca Per fare questo vi lascio il link in descrizione di questo sito che vi permette di farlo velocemente online e senza alcuna registrazione Comunque il sito è lunapick, poi dovete andare su drove e cutout shape Ma io vi lascio il link direttamente alla pagina Quindi scegliete la immagine che volete salvare, io la regina Elisabetta Dopo vi si apre alcuni formati di ritaglio predefiniti Voi scegliete la zucca, in questo caso si è detto E come vedete il taglio è velocissimo Poi chiaramente dovete aggiustare l'immagine in modo che ve la tagli precisa Magari mettete la faccia centrata in primo piano, la tagliate prima la foto, prima di caricarla Poi andate su salva, quindi sul dischetto qui E vi si apre tutti i formati in cui potete salvare l'immagine Quindi ne scegliete uno, quello che volete, e l'immagine viene salvata Dove? Basta che premete qui sulla freccetta mostra cartella e vi fa vedere dove ve l'ha salvata Però di solito viene salvata nel download Poi se volete caricare un'altra immagine basta che premete sulla X Cancellate l'immagine e siate pronti a caricare un'altra immagine Quindi close immagine, riandate qui e potete caricare un'altra immagine Quindi per questo video è tutto e alla prossima Grazie